Buongiorno Daredo, quindi quanto ci è costato l'IT outage di venerdì scorso, quello dovuto a CrowdStrike sui sistemi Windows? Beh, sono uscite alcune stime, le compagnie di assicurazioni stanno stimando in 5 miliardi di dollari e poco più la perdita per le compagnie Fortune 500, quindi tra le 500 top a tenda nel mondo, e una quindicina di miliardi di dollari per tutte le altre, quindi una perdita globale di circa 20 miliardi di dollari come costo dovuto al blocco proprio dei PC Windows di venerdì scorso. E tra l'altro le assicurazioni, perché queste compagnie ovviamente sono assicurate, ma le assicurazioni copreranno da un minimo del 5% per le aziende più piccole fino a un massimo del 20% del danno per le aziende più grosse, quelle assicurate per cifre maggiori. Quindi al massimo, insomma, si riprenderà il 20% di quello che hanno perso. Si sta parlando, come sappiamo, di compagnie aeree, di banche e di aziende sanitarie, soprattutto, e poi i negozi retail che hanno perso qualcosa e via via tutte le altre. Allora, insomma, nessuno si è assicurato contro uno scenario proprio apocalittico come quello che è successo venerdì scorso con tutte le macchine bloccate, naturalmente. Quindi secondo i termini dei contratti di assequazione stipulati, insomma, la copertura è minore. E questo vuol dire che le aziende dovranno pagare di tasca loro. CrowdStrike per ora non si sa se dovrà pagare qualcosa. C'è qualcuno che ha scritto che, basandosi sull'incidente che è successo ad OVH qualche anno fa, dove bruciarono dei server, no? Ecco, lì in Francia, in quel caso, OVH fu costretta a pagare da un tribunale. E ci sono molti punti in comune tra l'incidente di OVH e quello di CrowdStrike. E quindi potrebbe essere effettivamente che se quello è il caso, poi CrowdStrike sarà costretta da un giudice a pagare. Però per ora non si sa. Per adesso, come avevo detto ieri, CrowdStrike ha mandato delle gift card da 10 dollari su Uber Eats. Peraltro, qualcuna non funzionava perché Uber Eats si è trovata poi troppe richieste contemporaneamente. Le ha marcate come spam, quindi qualcuno non è manco riuscito a prenderci la pizza gratis offerta gentilmente da CrowdStrike, dopo aver bruciato 20 miliardi di dollari nel mondo, insomma. Ah, prima di andare nelle news di oggi, ho impostato la live YouTube di mercoledì prossimo a luna, quindi live pranzolina, per salutarci prima delle vacanze e per celebrare l'ultima giornata, l'ultimo giorno, l'ultimo buongiorno da Edo, che appunto andrà in onda in questa emissione mercoledì prossimo. Quindi facciamo una live, una chiacchieratina di chiusura, mi farebbe piacere se veniste a salutarmi. Basta, andiamo nelle news di oggi. Allora, la notizia del giorno riguarda ancora le AI, è un trittico questa settimana, una trilogia di prodotti annunciati proprio che riguardano le AI. Oggi è il turno di OpenAI, che ha aspettato probabilmente la fine della settimana per arrivare per ultima, così nei weekend si parlerà solo di loro, insomma. OpenAI ha annunciato il suo motore di ricerca AI-powered, che ha chiamato, con tanta fantasia, SearchGPT. Ma SearchGPT non è ancora disponibile al pubblico, adesso è in beta, c'è una waitlist, è disponibile quindi soltanto a qualche migliaia di fortunati che si presteranno a questo beta test gratuito per OpenAI. Insomma, vi leggo un po' la notizia, OpenAI sta annunciando il suo ingresso, che era già stato previsto nel mercato dei motori di ricerca, con SearchGPT, che è un motore di ricerca AI-powered, con accesso in tempo reale a informazioni in giro per l'internet. Il motore di ricerca parte con un grande box di testo che chiede all'utente che cosa stai cercando, ma invece poi di ritornarti una lista di link, SearchGPT prova a organizzare questi contenuti e dargli un senso. In un esempio, da OpenAI, questo engine ha fatto il riassunto di quello che ha scoperto, di quello che ha trovato sui festival musicali e poi ha presentato una breve descrizione degli eventi con poi i link di attribuzione. Dopo che sono apparsi i risultati, l'utente può fare delle question di follow-up, quindi delle domande ulteriori, per andare avanti con la discussione, per chiedere ulteriori dettagli, oppure può cliccare sulla sidebar per aprire tutti i link rilevanti di questa ricerca. SearchGPT per ora è un prototipo, il servizio è naturalmente powered by GPT-4, quindi la famiglia di modelli GPT-4, e sarà accessibile solamente a 10.000 utenti test, beta tester al lancio. L'obiettivo alla fine sarà di integrare le feature di SearchGPT direttamente dentro SearchGPT. Non so se per gli utenti premium oppure per tutti, ma insomma questo dovrebbe essere poi l'obiettivo finale di SearchGPT. È l'inizio di quello che potrebbe essere una minaccia considerevole a Google, che naturalmente ha cercato in tutti i modi l'anno scorso di buttare delle feature AI dentro il suo motore di ricerca, pensando che gli utenti poi si fiondassero verso chi gli avesse proposte per prima. E inoltre l'OpenAI si mette in diretta competizione con l'altra startup che fa motore di ricerca powered by AI, che è Perplexity, che si definisce una AI Answer Engine. E che peraltro è il centro di numerose polemiche, perché praticamente fa scraping degli articoli, poi ti presenta estratti interi anche di quelli dietro per i wallings, ma ci sono anche delle cause legali in corso contro Perplexity. E infatti, considerando proprio questo scenario, OpenAI ha messo bene in evidenza che queste feature di ricerca sono state realizzate in collaborazione con numerosi partner in news outlet, che includono delle organizzazioni come i proprietari dell'Wall Street Journal, Associated Press e Vox Media, che possiede The Verge, da cui sto leggendo questa news. I publisher, dice OpenAI, avranno modo di gestire come i loro risultati appariranno nei motori di ricerca e potranno anche fare opt-out dall'avere i loro contenuti usati come training dei modelli di OpenAI, ma comunque comparire nei risultati di ricerca. Inoltre nell'annuncio si legge che le risposte avranno tutte delle chiare attribuzioni e dei chiari link in modo che gli utenti sappiano da dove le informazioni stanno arrivando e potranno andare a controllare poi le fonti. Naturalmente, ci dice questo articolo, rilasciare SearchGPT come prototipo aiuterà molto OpenAI, soprattutto a livello comunicativo, perché se i risultati della ricerca si mostreranno largamente non corretti, addirittura vi ricordate quando Google, quando rilasciò AI Overview, consigliava agli utenti di mettere della colla sulla pizza? Ecco, beh, in quel caso per OpenAI sarà facile dire, beh ragazzi, è un prototipo, quindi non c'è niente da fare. Oltre, naturalmente, a mettersi al riparo da tutte le attribuzioni non corrette oppure dal rigurgito di articoli completamente identici alle fonti originali, cosa che, come ho detto, ha messo perplexity nel mirino di molti publisher. E si deve parlare, infine, anche del lato economico della faccenda, perché OpenAI sta sviluppando un sacco di nuove cose, ha preso una milionata di utenti, ecco, con SearchGPT e con tutti i servizi correlati, però ha una marea di costi, sta bruciando una quantità di dollari incredibile. Per esempio, The Information ha riportato che il costo totale delle inference, quindi dell'uso, dell'allenamento dei modelli di OpenAI, ha raggiunto quest'anno i 7 miliardi di dollari, a cui si aggiungono i costi del permettere a milioni di utenti gratuiti di utilizzare SearchGPT. E SearchGPT sarà anch'esso disponibile inizialmente in maniera gratuita, quindi non è chiaro come la compagnia pensa di poter poi monetizzare questo motore di ricerca. E mentre vi faccio vedere anche la pagina di SearchGPT Prototype, con il video che vi mostra un po' come sarà il comportamento poi in produzione di questo motore di ricerca, naturalmente questo video è confezionato ad arte, però insomma vi dà un po' un'idea di come sarà anche con le sue feature conversazionali. Però vi dico anche che potete già in realtà provare dei motori di ricerca che si basano sull'AI e che vi danno una modellazione dei risultati in modo generativo. E intanto perplexity, come abbiamo già citato, ma anche ArcSearch. ArcSearch è la parte mobile, è la app mobile, la companion app del browser Arc, di cui ho parlato spesso. Ecco, ArcSearch effettivamente si chiama così perché il cuore dell'app è un motore di ricerca ed è un motore di ricerca basato sull'AI. Quindi se voi avete ArcSearch purtroppo solo su iOS, non c'è ancora su Android, ma se voi avete ArcSearch potete fare una ricerca, questo farà un surf dell'internet, un browse, come si dice in italiano? Una ricerca sul web, quindi andrà a prendere risultati in tempo reale, ma poi ve li presenterà in un modo generativo utilizzando le feature di OpenAI stessa, tra l'altro, utilizzando feature di AI generativa. Quindi è un paradigma che esiste già e questo è quello che avevamo già capito, che le cose migliori dell'AI in questo momento sono le sue capacità di capire il linguaggio umano, le sue capacità di presentare i contenuti in un certo modo e poi le function call e il rag. Messo insieme queste cose qua, si riesce a ottenere qualcosa che potrebbe essere il motore di ricerca del futuro. Staremo a vedere. E ci dà ulteriori spunti di riflessione anche il Guardian, quando ci dice che questa mossa, questa presentazione, mette OpenAI in diretta competizione non solo con Google, con Perplexity, eccetera, ma anche con Microsoft, che è il suo principale finanziatore, è uno dei suoi principali soci, perché Microsoft ha un motore di ricerca che, come sapete, si chiama Bing, ma si chiama Bing Copilot, o Copilot, insomma, un po' il branding è strano. Comunque Bing è un motore di ricerca che ha delle feature di AI e a cui, peraltro, Microsoft ha appena aggiunto delle feature di AI generativa proprio nella mostrare i suoi risultati in un modo simile a quello che fa Google con AI Overview. E quindi sarà interessante vedere come prosegue questa partnership tra i due giganti. E poi prosegue quest'articolo su Guardian, bisognerà vedere come gli altri outlet, gli altri publisher reagiranno all'uso dei loro contenuti in questo motore di ricerca, perché se è vero che OpenAI ha un accordo con News Corp ed altri, è vero che molti altri sono esclusi. Per esempio, il New York Times, il Chicago Tribune, l'Intercept e molti giornali locali hanno fatto causa a OpenAI per l'uso indiscriminato dei loro contenuti. La posizione ufficiale di OpenAI, come sappiamo, è che questo rientri tutto nella dottrina del fair use, però, insomma, il campo di battaglia si sta un po' scaldando. Adesso ci sono dentro anche Google, appunto, con AI Overviews. C'è perplexity. Adesso arriverà Bing. Insomma, i publisher hanno già fatto capire di non essere molto contenti che qualcuno prenda tutti i loro contenuti e li sbatta, così come sono, su questi motori di ricerca, senza far arrivare gli utenti sul loro sito, quindi senza generare del traffico per loro. Comunque, alla fine, come ci dice The Register, non è esattamente chiaro che cosa farà SearchGPT di diverso rispetto a SearchGPT, perché il chatbot, appunto, è già in grado di andare sul web per mostrare dei risultati aggiornati. Potrebbe addirittura dirti quali sono le previsioni dei metodi del giorno. E infatti OpenAI dice che il piano, alla fine, sarà di integrare queste feature direttamente dentro SearchGPT. E non è neanche molto diverso da quello che fa già Google con AI Overviews e da quello che fa Microsoft con Bing e con Copilot. E in effetti, quello che ha mostrato OpenAI nella demo, appunto, di SearchGPT è molto simile a quello che fa già Copilot. Sarà quindi interessante vedere come si muoveranno a livello commerciale, sarà interessante vedere come evolverà la partnership che a questo punto diventa piuttosto frizzante tra OpenAI e Microsoft. Ma, insomma, c'è da dire che un punto veramente a favore di OpenAI è questa partnership che loro hanno con News Corp e con altri giganti dell'informazione che gli consentiranno proprio di prendere le loro informazioni e di sbattere direttamente nel motore di ricerca. O la seconda news di oggi è molto collegata alla prima. La prendo tutta da Foro4Media e ci parla di un accordo tra Google e Reddit che permette a Google di essere l'unico motore di ricerca attualmente a cui è permesso di accedere ai contenuti di Reddit stesso. Infatti dice l'articolo se usi Bing, DuckDuckGo, Mojic o Quant, questi ultimi due nomi li ho appresi adesso, devo dire la verità, o altri motori di ricerca che non si basano sull'index di Google e provi a fare una ricerca utilizzando site.reddit.com, cioè cercando proprio su Reddit direttamente, non vedrai nessun risultato dalla scorsa settimana. DuckDuckGo al momento mostra dei link quando si cerca su Reddit, ma poi non mostra nessun dato da questi link e con un messaggio dice ci piacerebbe mostrarti qualcosa, qualche descrizione da questo sito, ma non ci è permesso. Ci sono ancora i vecchi risultati, ma attualmente a questi motori di ricerca è proibito fare il crawling e quindi prendersi dati più nuovi. E questo significa che Google è l'unico motore di ricerca che ci dà risultati di Reddit aggiornati da qui in avanti. Ah, c'è da dire che Reddit funziona ancora con Kagi, che è quel motore di ricerca indipendente di cui un'interno abbiamo parlato, che è un motore a pagamento che si basa però sul search index di Google. E insomma l'esclusione degli altri motori di ricerca arriva dopo che Reddit ha chiuso praticamente l'accesso a tutto il suo sito per bloccare le aziende che fanno scraping dei suoi dati per allenare i modelli di AI. E al momento solo Google può fare questa cosa perché con un accordo di qualche mese fa, un accordo multimilionario di cui avevamo parlato, ecco Google può utilizzare Reddit per fare training dei propri modelli di AI. È l'unica azienda che lo può fare grazie appunto a questo accordo. E dice Colin Heyhurst, che è il CEO di Mojic, appunto quel motore di ricerca che abbiamo citato prima, dice loro stanno uccidendo qualunque altro prodotto che non sia Google, questo dice Heyhurst, che dice anche che aver provato a contattare Reddit via email, quando si è accorto appunto che non potevano più prendere i dati da Reddit, ma ha detto che loro non gli hanno risposto. Foro4Media ha contattato Reddit via email e un portavoce che si chiama Tim Ratchmit ha risposto che non è corretto dire che i dati recenti di Reddit non appaiono su altri motori di ricerca a causa dell'accordo con Google, perché quello non includeva questa parte. Dice invece che Reddit sta bloccando tutti i crawler di tutte le aziende che non hanno promesso a Reddit di non utilizzare quei dati per fare allenamento, per fare training di modelli di AI, quindi questa sarebbe la motivazione dietro questo blocco dei crawler. Ma comunque non ha detto perché che non hanno poi risposto alla mail di Mojic, che non usa quei dati per fare i training di AI. Neanche Google ha risposto a richieste di commenti e come vi ricordate Reddit negli ultimi mesi è stata molto arrabbiata con le aziende di AI che facevano scraping dei suoi contenuti per poi fare allenamento dei modelli e quindi si è poi messa a fare delle azioni molto aggressive per impedire questo crawling e questo allenamento e infatti ha anche bloccato l'accesso all'API che poi consentiva alle app di terze parti su mobile per esempio di continuare a funzionare tant'è che oggi l'unica app praticamente utilizzabile su mobile è l'app ufficiale di Reddit perché la soglia di accesso all'API, il costo che le compagnie hanno per accedere all'API di Reddit è talmente alto che le piccole app indipendenti non se lo possono permettere. Uscendo dalla logica invece del pagamento per richieste all'API, Google ha stretto un raccordo con Reddit come dicevo prima per 60 milioni di dollari che permette alla sua parte di AI di utilizzare i dati di reading per fare training. Quindi al momento in pratica il file robots.txt di Reddit è un disallow a tutti gli user agent. Come sapete il file robots.txt è un file che si può mettere sulla root dei siti web per dare istruzioni ai crawler. Poi che i crawler le rispettino o meno questa è un'altra parte della faccenda ma insomma dando questa istruzione user agent disallow praticamente tutti i crawler dovrebbero essere bloccati e non poter fare scraping dei contenuti. Peraltro nel file robots.txt di Reddit c'è uno statement che dice Reddit crede nell'open internet quindi nell'internet aperto ma non nell'abuso di contenuto pubblico. Chissà se Aaron Svarts uno dei fondatori del Reddit originale sarebbe d'accordo con la politica attuale di Reddit. E infatti a giugno Reddit aveva detto che stanno vedendo un abuso una crescita degli abusi dei loro dati per sfruttamenti commerciali soprattutto riguardo all'AI e quindi devono fare qualcosa per proteggere i contenuti generati dei loro utenti appunto da queste aziende che poi li abusano. Ma dice anche che tutti quelli che sono in buona fede come per esempio organizzazioni come la Internet Archive ecco loro potranno continuare a utilizzare i dati di Reddit quindi a fare scraping per i loro usi. Ora anche se Google non ha ancora commentato ufficialmente come dice poi quest'articolo l'accordo con Reddit mette in evidenza due fatti fondamentali. Il primo che i dati di Reddit sono fondamentali per fare allenamento per fare training dei modelli di AI e il secondo è che per Google Search quindi per il motore di ricerca i risultati di Reddit sono una parte fondamentale soprattutto perché negli anni la ricerca su Google è sempre più peggiorata e sono sempre peggiori i risultati e l'unico modo per avere qualcosa di sensato di utile è di sfruttare le risposte generate dagli utenti su Reddit stesso. Per concludere l'articolo ci sono invece ancora le parole di Hayars il CEO di Mojic che dice noi abbiamo sempre fatto crawling del web in maniera rispettosa per vent'anni quindi peraltro è un motore di ricerca che esiste da vent'anni io non lo conoscevo va bene siamo verificati su Cloudflare non facciamo training di AI siamo un genuino e tradizionale motore di ricerca non facciamo l'ans non facciamo le cose di Answer Engine Answer Engine sarebbe il nome che si è data per Plexity adesso con questo accordo tra Reddit e Google dice Hayars sarà più difficile per gli altri motori di ricerca offrire un'alternativa agli utenti e dice questo è parte di un trend più ampio e ci preoccupa parecchio il web è stato graduatamente ucciso e eroso non voglio fare troppo una generalizzazione ma insomma questa non aiuta gli attori più piccoli allora per i link di oggi il primo come vi dicevo in intro è quell'articolo che parla del parallelo tra il disastro di OVH l'incendio a OVH di qualche anno fa e l'attuale incidente di CrowdStrike mettendo appunto in luce che nel primo caso poi OVH fu costretta a risarcire alcuni dei propri clienti e in questo caso ci sono dei parallelismi che potrebbero ecco far sì che anche CrowdStrike sia costretta alla stessa cosa la trovo su questo blog che si chiama The HFT Guy a developer in London e insomma vabbè comunque l'articolo è ben fatto è andato anche su Hacker News quindi è qualcosa che non è una news in sé perché insomma è l'opinione di qualcuno però ecco è rilevante secondo me vale la pena di leggerlo il secondo articolo che vi do anche questa poteva essere una news ma insomma ve lo do come link se volete andarlo a vedere questa è la versione web di Apple Maps sapete che Apple Maps è un'app solo su iOS non c'era mai stata una versione web bene adesso come potete vedere hanno lanciato Apple Maps anche per il web quindi se andate su beta.maps.apple.com potete vedere la bellissima interfaccia insomma di Apple Maps pronta per essere utilizzata naturalmente in beta quindi bisognerà ancora sistemare qualcosa vedete che l'interfaccia è ancora abbastanza grezza però potete andare a verificarla insomma a fare le vostre ricerche i vostri giri sulle mappe di Apple per vedere appunto se questa è un'alternativa a Google Maps che vi può piacere insomma provate fatemi sapere anche voi se l'esperienza vi piace come sta piacendo a me comunque mi sto trovando abbastanza bene ed eccoci qui alla fine del buongiorno anche di oggi grazie a tutti quelli che sono resistiti illesi fino alla fine del podcast noi ci vediamo probabilmente lunedì mattina noi intanto potete prendervi il weekend per rilassarvi o recuperare vecchie puntate se ancora non l'avete fatto e se siete indietro potete recuperarle potete anche vedere qualche altro videoino che ho fatto laterale a questo podcastino sul mio canale YouTube altrimenti comunque ci si vede lunedì mattina probabilmente ripeto con un nuovo podcastino e poi si andrà serenamente verso la fine di luglio quando inizierà il mio periodo sabbatico di riposo meritato grazie a tutti alla prossima ciao grazie a tutti